Musica Falco, buon primo tempo, siete partiti un po' così a così, subito un gol sotto però vi siete ripresi alla grande, ora state un gol sopra, cosa vi serve per chiudere questa partita? Un po' più di fortuna, perché due gol sono due rimpalli d'oro e essere un po' più cinici sotto porta, perché loro tirano e segnano noi se ci stiamo tirando, il portiere loro sta facendo miracolo Un po' più di cinicità e fortuna, tutto qui Bocca al lupo Misani, siete partiti bene, poi nel secondo tempo, cioè nella fine del primo tempo siete un po' calati cosa vi serve per recuperare questo gol di svantaggio e ovviamente per vincere questa partita? Vabbè, diciamo che stiamo giocando bene, abbiamo mancato qualche cosa ma comunque nel secondo tempo sicuramente ci assistiamo meglio, un po' più dietro, più compatti e cercheremo di partire Bocca al lupo Trevi, trevi Buonasera, siamo qui nel post partita che ha visto affrontarsi Real Cirque Capì contro Crolla Boys, la partita è finita a 6-5 per i Crolla Boys abbiamo qui due migliori in campo, Romano e Polverino andiamo dalla squadra che purtroppo ci era sconfitta, Romano innanzitutto complimenti per la doppia età, due bei gol, il primo un po' fortunoso però è il secondo bello piazzato, una buona prestazione penso nel complesso, siete partiti forti la partita è stata equilibrata, qualche gol fortunato da parte di tutti e due però poi ritengo che alla fine loro hanno meritato, ci poteva stare pure il pareggio però ce la siamo giocato non è che c'è stata una netta supremazia da parte loro veramente una bella partita, Pisani stasera è stata combattuta, lui si è fatto male abbiamo pagato anche il suo infortuno e vabbè, Romano una dedica speciale per questi tuoi due gol? no, va bene, la dedico a mia figlia Francesca, grazie grazie e complimenti per il posto ciao Andrea Polverino, buona prestazione il tuo avversario forse ha detto bene, è una partita combattuta da entrambe le squadre forse avete meritato qualcosina in più voi però una partenza, dovete migliorare secondo me le partenze una partenza un po' così e così da parte della vostra squadra la partita, sì, fisicamente stavamo un po' giù dopo le feste sai com'è, però sì, sarei equilibrato abbiamo giocato abbastanza bene diciamo che dobbiamo migliorare, però almeno abbiamo vinto va bene così complimenti anche a te, stasera autore di una tripletta tre bei gol sì, è la mia prima partita in questo mini torneo però spendendo un po' di forma fisica miglioriamo possiamo giocarci dedica speciale anche per te la dedica crolla, il capitano crolla che ci critica sempre salutiamo crolla e bocca a lui il proseguo ciao, grazie ciao ragazzi ciao